ciao a tutte allora oggi sfogliamo insieme l'album numero 16 del libro che valido fino al 27 dicembre del 2018 in questo album trovate tutte le offerte e le promozioni per passare le feste scintillanti e in bellezza quindi ci sono le promozioni make up le promozioni bellezza le promozioni per la cura dei capelli vi ricordo che il 27 dicembre è anche l'ultimo giorno per scaricare per ordinare dall'album di natale ma ovviamente i prodotti sono in edizione limitata e non arriveranno mentre natale però è una buona occasione per fare scorta sfogliamo il catalogo allora eccoci iniziamo a sfogliarlo vedete album numero 16 valido fino al 27 dicembre 2018 e vediamo subito la prima pagina che è perfetto per il trucco di capodanno quindi rendi dimenticabile la notte di capodanno con i vari set make up e soprattutto con l'omaggio ogni 20 euro di acquisti beauty e questo astuccio perfetto per riporre tutto i trucchi allora la prima promozione che vediamo 1795 il set che comprende il fondotinta questo matte che è sempre fantastico poi il super opacizzante il correttore che preferite quindi si può scegliere tranquillamente tra tutti quelli colorati con il codice rosso oppure anche quelli correttivi quindi sempre col codice rosso il fondotinta ovviamente si sceglie nel colore che si preferisce tra quelli adatti alla vostra carmigione poi andiamo avanti vediamo sempre con tutti i prodotti make up 20 euro per l'acquisto per aver in omaggio alla stuccia vediamo i set eccoli qua degli ombretti 1495 il set di tre ombretti si può scegliere tra tutti i colori eccoli qua le varie gradazioni di colore quindi è ad esempio questo che è quelli dei marroni i marroni più scuri i dei grigi per uno smoky oppure il blu che è molto bello sempre per le feste il look glamour che è quello più classico con il rosa eccoli qua oppure quel look ammaliante perché prendono degli arancioni o dei verdi molto belli come colori è il momento delle maschere anche per preparare il beauty quindi la pelle al capodanno quindi abbiamo le maschere purificante quella purificante ultra clean la rivitalizzante la purificante e illuminante quindi sono perfette tra i 95 oltretutto per essere perfette come ho detto alle capodanno veniamo ora alla promozione per essere cintillanti dalla testa ai piedi quindi anche con i capelli abbiamo il regalo eccolo qui trattamento a notte da 30 ml ogni due prodotti capelli acquistati quindi tranquillamente potete scegliere tra la vostra linea preferita tutti quelli che preferite ed è maschera shampoo balsamo trattamenti bastano due prodotti e se non maggio il trattamento a notte quindi guardate tra tutti questi tutte le linee tranquillamente quella che preferite e quella che più adatta alle vostre esigenze questo era tutto l'anno e allora abbiamo sfogliato tutto il catalogo avete visto che ci sono delle promozioni e delle offerte molto interessanti per queste feste ma direi per tutto l'anno come sempre qui sotto nell'info box c'è il link per contattarmi per le informazioni e per gli ordini e trovate sempre anche il link per scaricare il catalogo in formato pdf così potete tranquillamente sfogliarlo su tutti i vostri dispositivi multimediali e non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati e ovviamente buone feste con il Magico Attuale Mondo di Broché